Ciao a tutti ragazzi, sono Pit e siamo qua per un nuovissimo episodio di Sargent Simulator E su questo nuovo episodio ragazzi verrà caricato, spero naturalmente, perché non so se mi accettaranno il video Sulla community di Otros Network E niente ragazzi, io direi che non ho mai giocato a questo gioco, quindi direi subito di fare un po' di casino Bando alle tante ragazzi, direi subito di iniziare questa operazione Earth Transplant Patient Name Bob Direi che iniziamo subito ragazzi Comunque, non ho mai giocato a questo gioco E spero che non sia troppo Mi sono bugato la mano Oh mio dio, ok So che devo rompere delle ossa E questo mi piace Però non so come fare sinceramente È impossibile Via l'orlodo, via Un bravo chirurgo non deve avere l'orlodo in sala operatoria Su, ecco Qua mi sa che facciamo dei danni pesanti Guarda, guarda come si fa a fare una bella Ah ecco, ok Più forte, Pito Più forte Boom L'importante è che non muoia Oddio Botte, botte, botte continue, botte continue No, no Cosa ho fatto? Che cacchio ho fatto? Oh mio dio È la prima volta che gioco ragazzi Quindi sarò mezzo handicappato di sicuro Yeee Ma quanto è bello distruggere delle ossa Allora In teoria dovremmo esserci, penso Questo rumore molesto Sto rumore è molto molesto Buttiamo via E, 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 e Ok, devo tirar via altre ossa, mi sa Mi serve tu No, ok Questo non è il giusto metodo forse, però Ecco Ci siamo No, no Che cacchio Colgo l'occasione per ringraziare La community di Otros Eh, la community di Otros Network Se vorrà caricare questo video E, probabilmente la serie andrà avanti sul mio canale Ogni sabato Ma non, non è sicuro, insomma No, non andare via Non andare via a martello Ecco, sei mio amico Polmone, dai So che te la puoi fare a uscire È uscito il fegato Ok Ok, va bene Il polmone si sta scuotendo in tutte le maniere Ma non esce Ecco È uscito Lo vuoi il tuo polmone? Lo vuoi il tuo polmone? Che bravo bambino che sei Che bravo bambino Guarda, mangiatelo Ecco No, non darmela a me Mangiatelo Ok, nel testino va bene lo stesso Questo, anche il tuo fegato È veramente bravo Tieni, tieni No, sono sul serio, eh Complimenti Allora L'altro polmone anche Via, via Cioè Ragazzi qua è bello perché Senza i polmoni La gente vive senza polmoni Non lo sapevate? Cioè Scusate Intanto qua il polmone si è bugato E si è tolto da solo Forse Io sto svanettando col mouse In una maniera impressionante Dovreste vedermi Un trapano Ho sempre desiderato usare un trapano Eh, prenditi il trapano Perca miseria Ma il trapano Ecco Ho sempre desiderato usare un trapano Nelle operazioni chirurgiche, ragazzi E finalmente si può Fra l'altro non vedo dove lo sto piantando Ma va bene lo stesso Non si taglia È impossibile Oh mio Dio, ma di Oh mio Dio Sta perdendo sangue all'infinito Eh, dammi la seringa Dammi la seringa Seringa Non il piatto La seringa Sì, sì Vai, vai, vai Un po' di Un po' di Aumenta il prasolo Dai Iniettaglielo Ah No, iniettaglielo ancora Che cacchio Ok È vivo Ok Va bene È normale È normale Ok Noi abbiamo la nostra bella manina Che non riesce a tirar su neanche Un 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 coso Un Casper si chiama Non riesco a tirarlo su Non riesco a tirarlo su Dai ragazzi Su Ecco Ci siamo È impossibile ragazzi Praticare un'incisione I giorni d'oggi Da Un fissato di netto Ma non vuole tagliar No Non 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 gli ho dato la trisocicina No Il neoviderm No L'amoxicillina Abbiamo perso Bobo ragazzi Una brutta perdita Per il genere umano Mi sento in colpa Forse no Chi se ne frega Sarge un simulator è un gioco di merda È da 8 ore che provo a giocarci Non ho ancora fatto La prima La prima La prima operazione È impossibile È impossibile ragazzi È impossibile Perché 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 ho deciso di fare questo gioco Gioco di merda Gioco di merda Direi che possiamo togliere qualcosa qua Se non me lo fai togliere Mi incaffa Fammelo togliere Ok Ci siamo Uno Due Tieni Bob Sono per te Tutti per te Io ho fatto tutta questa fatica per te Ti rendi conto quanto ti voglio bene Ok via 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 Manca Poca roba Prendi Prendi No non voglio il cosino Voglio Le forbici No Le forbici No Non mi devo tagliare da solo Voglio le forbici Ecco Non si tagli Ecco Tagliato Attenzione Tagliato Attenzione ragazzi E' la prima volta che arrivo a questo punto Isc Sai Butta via le forbici Che mi sta morendo il paziente Valah che Prendo la siringa Sono già Previdente O mio dio Mi sento Molto No Voglio il pancreas Si 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 La prima volta dopo tanto tempo Ce l'ho fatta Vedi Bob, vedi, questo, questo, è quello per cui ho lottato per tutta la mia vita Forse no, però va bene, lo stesso Ok, dobbiamo praticare un'altra decisione, mi sa, o no Sì, mi sa di sì Sega Pronta, no, no No, Sega, non farmi questo No, Sega Non farmi questo Queste, queste tre le prendo, ti prendo con queste tre Non farmi questo, Sega Sega, non farlo Sì, ti ho ripreso, Sega Sei con me, sei mia amica Tranquillo, Bob Sei in buone mani Sì Via, via tutto, via Sì Sì, sì Oh mio Dio, via il cuore, via il cuore, Bob Ci siamo Le persone stanno andando a buon fine A buon fine A buon fine A buon fine Bob, ce la puoi fare Ce la puoi fare Bob Guarda Con il potere della Amoxicillina Neofederm Asitropombo Amoxicillina Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta No, non dirmi Come devo mettere Come faccio Sì Sì Ragazzi, ce l'abbiamo fatta Penso che per questo episodio Ragazzi, possa essere anche tutto Per i prossimi episodi Vi aspetto sul mio canale E se il video vi è piaciuto Vi ricordo di mettere un mi piace Iscrivervi al canale di Otros Network Fa dei video ottimi E' una community Veramente incredibile Secondo me Io vi dico solo Di Passare sul mio canale Se il video vi è piaciuto Io sono Pitto Buongiorno Sono Dessere Dario Un po' un rito Buonasera E buon' notte Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti